Noi siamo molto soddisfatti di poter inaugurare ancora una volta una mostra interessante, quella di Port Club qui a MUDEC perché MUDEC sempre di più sta diventando un riferimento a Milano, ma direi un'icona per tutto il paese ed è la più bella espressione di collaborazione tra il pubblico e il privato dove due grandi entità come il Comune di Milano, in questo caso il Gruppo 24 Ore, collaborano e danno i propri valori e le proprie eccellenze per porre l'attenzione del pubblico dei contenuti straordinari come quelli che da oggi potremo visitare con la grande speranza di chiamare a raccolta tutto il pubblico possibile ma soprattutto il pubblico delle famiglie e soprattutto il pubblico dei bambini per avvicinarli appunto a dei contenuti meravigliosi come quelli dell'arte.